Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars con una nuova tier list Ebbene sì, siamo arrivati a quella di aprile e ragazzi, il video di oggi è ancora una volta più complesso Brawl Stars è sempre più vicino agli 80 brawler, quindi lo sapete, dobbiamo andare a cannone Questa è la tier list del mese precedente, se ve la siete persa Ve lo dico, ci sono parecchi cambiamenti, quindi cominciamo subito Et voilà, eccoci qua ragazzi, tier list resettata Ovviamente vi ricordo che i nuovi brawler sono tutti quanti aggiunti E vi ricordo che come sempre la potete fare voi, la vostra tier list Con il link che vi lascio qua sotto in descrizione Trovate la mia ovviamente, così la potete consultare, la potete modificare come volete O potete col tasto reset qua sotto rifarvela voi da zero Quindi che dire, mentre faccio quello che oramai è il nostro rito di iniziazione Ovvero mettere gold rico in cima a tutto, perché si sa rico worka Vi chiedo un bel like, arriviamo almeno almeno a 6k like per la tier list Se lo merita, vedo che vi piace sempre un sacco, quindi daie E ovviamente vi ricordo l'iscrizione al canale, che siamo già a 401.000 iscritti Ne mancano giusto 99.000 per il mezzo milione, quindi mi raccomando a conto su di voi Partiamo subito con Shelly, che va dritta in tier A Ci sono state le qualifier ragazzi, e devo dire che in questi qualifier ha sfiorato il ritorno in tier S Perché è stata sempre piccata stra bene Idem per Nita, l'ho vista utilizzata di più Io la spingerei in tier A Oggi gli diamo qualcosina in più a Nita E non ha l'hypercharge, eh sto brawler Se li mettono l'hypercharge non so che succede Colt, anche lui mi è piaciuto molto in mappe come ponte È veramente forte, quindi Lo tengo in A, ma potrebbe già calare lui Non sono messi in ordine a caso, eh brawler? Sono messi in ordine comunque sempre dal più forte che sta più a sinistra Fino a quello un po' meno forte che tengo più verso destra Allora, un bull, secondo me, sarebbe quasi da E Lo metto in un D, ok? Perché comunque si è stato utilizzato durante queste BSC qualifier Ma non ha fatto, insomma, degli esploi incredibili Brock è buono, lo terrei un po' sopra la media, un B Perché comunque è quel pick che, boh, alla fine c'è sempre nelle tier list Con il primo devo essere un po' più cattivo rispetto a un bull Non credo che sia al suo momento, ragazzi Sinceramente non mi convince troppo Devo essere onesto E stessa identica cosa vale per Barley Che non si becca al TRF, perché in realtà L'ho giusto pushato, tra l'altro, l'altro giorno in live Ci ho fatto un sacco di coppe Ma a livello proprio generale Non è questo Grand Trower Non ha neanche l'hypercharge C'è semplicemente di meglio Willow rimane banalmente sempre una scelta migliore Pocho, ragazzi, ditemi quello che volete Va in F, punto e basta Pocho, per carità Mi batte tranquillamente Fanno un sacco di win con Pocho Ma è molto situazionale E se sbaglia a piccare E metti Pocho Diventi veramente un feed da ulti per l'avversario Allora, Rosa in questo momento La metto in B È un po' un calo per lei La metto comunque sopra Brock Perché comunque in questi qualifier Ha fatto delle brutte sconfitte Però in realtà resta fortissima E sia chiaro Diciamo che è abbastanza situazionale E soprattutto in certi casi È uno di quei brawler Che ti fa vincere la partita in draft Ok, però In questo mese Li tolgo qualcosina Al contrario di Jesse Che sarebbe quasi da mettere in TRS Non gli do il TRS La tengo comunque in cima La A Sopra tutti Sto mese secondo me è stato un mid devastante Veramente fortissimo È pure usciuta una bellissima skin per lei Dynamite che lo si vede di più in giro Potrebbe quasi stare in C Però Lo teniamo un po' più calmo In D Subito sopra infatti potrei già mettere un Tic Che in realtà sarebbe Oddio Tic sarebbe anche da B eh Eh sì perché comunque C'ha dei modificatori stasseason Tipo quello del veleno Parlando anche della PL Non parliamo solo di competitive Che Effettivamente Se siete con una comp di gente con le mani Worka veramente di brutto Va bene Lo teniamo lì 8 bit ormai da tempo È un Long Che mi piace molto Lo tengo anche sopra Anita Sinceramente Ma non sopra Shelly E Devo dire con grande piacere Che stasseason Rico Passa ufficialmente sopra la media Lo metto soprattutto in B Perché effettivamente Potrebbe quasi rosicchiarsi un A Ha fatto veramente Un grandissimo aumento Sia grazie ai modificatori Della Ranked Sia in generale Per come sta girando il meta Beryl Non mi piace Non credo che sia per niente il suo momento Potrebbe quasi azzardare un F Però comunque un brawler che Come meccanica in realtà mi piace Non mi piace come sta andando adesso Quindi lo teniamo in fondo La E E anche Penny Seppur sia un brawler che A livelli bassi Specialmente consiglio Perché vi fa fare un sacco Di Ranked Ma proprio tantissime Perché col mortaio Ragazzi Lo caricate Lo piazzate in certe mappe Gioca da solo Quando cominciano a salire un po' I livelli delle partite Penny è veramente terrificante Quindi la metto in un D Ma non posso darle più di un D E la tengo comunque in fondo alla D Anche Carl Devo dire Che va messo qua Tra la B e la C Lo metto anche sopra un block Sinceramente Perché sta season Di nuovo mi è piaciuto molto Secondo me Anche qua un po' Il meta Lo sta aiutando Mentre Jackie La devo mettere in C È sottovalutatissima in C Perché lei È più forte di così Però io personalmente La sto vedendo Molto meno contro E comunque un brawler Che non mi fa impazzire Devo essere onesto eh Qua con lei Forse sono stato veramente Troppo cattivo Però per adesso va bene così E sapete con chi altro Sarò cattivo Con Gas Dritto in F Sotto pocio Terrificante Veramente Boh Boh un po' come Penny È un brawler che A basse leghe Vi fa salire un botto Con l'unica differenza Che vi fa salire E poi anche A leghe più alte Eh lo metto Tra Rico e Rosa Perché secondo me Non è male Non è per niente male Altro brawler Che secondo me È molto nella media Ems Sicuramente Non si può mettere Sopra Jackie Però è comunque Sicuramente nella media E poi vabbè Arriviamo Stu Che è uno di quei brawler Che se sei bravo A usarlo Lo puoi mettere anche in S Però è un po' più difficilotto Dai parliamoci chiaro Se la balla qua in A Sicuramente Sopra Colt Sopra Nita Sopra anche 8 bit Ma non sopra Shelly Dai E invece si Anche sopra Shelly Arriviamo a Piper Vabbè Tutti long Banalmente Con il meta Che c'è adesso Nella rank Adesso hanno fatto Delle esploade Assurdi Ehm Per forza di cosa La devo tenere alta Sopra la media Però non è Bibi Bibi Non si è capito Che cosa ha visto Sale tranquillamente in cima Anche sopra Jackie Secondo me La si potrebbe spingere Anche un po' Oltre Sinceramente Però preferisco Tirare giù un tick Più che portare su lei Ecco prima parlavo di long Che hanno preso posizioni in meta In realtà Bea no È una È un po' una mosca bianca Anche se è un'ape L'avete capita La terrei in top D Addirittura sto mese È un po' cattivo Come giudizio Però effettivamente dei long È quello che ha avuto meno esploat E a proposito invece di long Che hanno avuto esploat Iris Cioè era già forte Oh Adesso S È il primo S del video Cioè se la sapete usare Iris Regà Non ha senso Non ha veramente senso Ma anche se non la usate Proprio benissimo In realtà non ha senso comunque Altro brawler Che è una sozzeria unica È Edgar Sicuramente Ma Regà è forte Che vi devo dire Lo metto sopra 8 bit Devo fare così Ecco altro brawler Che ci vedo molto nella media Metterlo sopra una bea Anche lui È vero Cioè bea Poveretta Bea e Jackie Le ho castigate troppo Però Griff Si becca una media piena E lo tengo anche qua Sai Grom Allora grom Per me è super dynamite Anche se tanta gente Non sarà d'accordo con me Perché banalmente Non ha l'hyper Però è sotto tic Quindi sta in questa zona Potrebbe stare nella media Anche lui Potrebbe stare qua Circa Sì Boh perché come lo vedo io Grom è forte Nelle mappe che ci sono In questo momento Tante mappe Si sposa proprio bene E poi regà Altro brawler Perché non è da sotto valutare Bonny Sarebbe da mettere in tiarese Cioè da quando gli hanno fatto Quel buff Che in realtà poi è stato anche Un buff segreto Perché Si carica la ulti Con un colpo in meno Adesso se non lo sapete Da veramente un sacco di problemi Tiarese è esagerato Per lei Secondo me È più tiara Però per ora La lasciamo lì Potrebbe essere uno dei brawler Che ha avuto più esploat Più incremento In questo mese Ok Hank ragazzi Va sopra Tutti quanti Sto scherzando È un F Il peggiore degli F Chi va invece Veramente in tiarese È Pearl Pearl ragazzi Anche lei Cioè Pearl e Bonnie Sono brawler Che non mi piacciono Ma sono solidi Angittata Fanno danno Sono versatili E devo metterli lì Ecco L'Ari Lory Si è dimostrato Un thrower Questo mese Migliore di Tick Quindi potrebbe andare Già in B Potrebbe stare anche Sopra un Brock No Sopra un Brock Non ce lo metto Angelo Angelo ragazzi È parlando di Long E lui potrebbe essere Veramente Addirittura sopra Iris È veramente Veramente fortissimo Non è facile da usare Io spesso lo evito Ma se lo sapete usare Raga Cioè La dominate In competitive Viene praticamente Sempre bannato Fate conto Infatti Nelle qualifier Non si è visto Mortis Fa abbastanza schifio Sinceramente Tara potrebbe stare In una media Sopra Ems No Sopra Ems no In realtà sotto Ma anche sotto Grom Sai Jin Boostatissimo Dai modificatori Devo metterlo sopra Piper Ma di quanto Metterlo già in A Eh oddio Ci ho fatto Le ranked Di brutto Con Jin Lo metterei qui Però più di così No dai Cioè Max sta recuperando qualcosa Potrebbe essere Già in A Cioè in B Lei Però Stesso di Scorsi Stu È competitiva Stu in realtà È molto più forte In proporzione Però Max Sotto Le relori Non mi sento Di metterla Quindi almeno In B Ci va Mr.P Nuda di entusiasmante Ma lo metterei già in questa zona In 1D Semino Ci abbiamo fatto un video su di lui ragazzi Che è questo Andatelo a recuperare Sul suo Build Up Per le Ace Secondo me Miglior trover del gioco Va sicuramente Sopra le relori Quanto Spingerlo Oltre Odio Oltre Rico Non lo so Però sai che Già qua a metà Ce lo metterei Ecco Ecco A proposito di espluare Byron Non si è capito Cosa gli è successo Cioè A me non piace Raga Ma lo sto trovando Un sacco Non lo metto Sopra Piper Non lo metto Neanche sopra Rico Col bo Già se la gioca Sai Ma sai che ce lo metto Sopra il bo Squeak Sulla media Sì ma non posso mettere Squeak sulla media Ok dai Bea la devo portare un po' su Perché non si può vedere Dai Bea la mettiamo almeno In top C Almeno dai Cioè quasi in top C Ecco Sopra ci potrebbe stare un grey Che non mi è dispiaciuto Per niente sto mese Sopra un Colt Sotto una Nita Willow La vedo sicuramente Mello di Barley Come dicevo Ma non a livello Di Lerrelori La terrei Qua in questa zona Sopra Grom Sì sicuramente Ma la terrei Anche in top C Doug In qualche modo Non si sa neanche Non lo sa neanche lui Come ha fatto È riuscito a riscendere giù Per carità Lo tengo sopra un Mortis Ma non sopra una Pam È diventato di nuovo Fidalulti Anche lui ragazzi Chuck Chuck lo sapete È super situazionale Cioè però Chuck A livelli bassi Vincete punto Cioè Nella mappa giusta Si vince Non si può fare altro Cioè ripeto L'unica cosa che lo Castiga un po' È il fatto che È situazionale Però Secondo me Già in un Bici vuole Però metterlo sopra Max Non lo so eh Ok Charlie È un mega TRS Sopra Iris Non sopra Angelo Ma sopra Iris Cioè Lei di nuovo Veramente forte Allora Mico Mico sicuramente La regola di base È che è sopra Mortis Prima di tutto Però è tanto sopra Mortis In top D Ma anche in C Vado Lo tengo sopra Grom Ok Melody è un TRS Io la metterei Tranquillamente sopra Bonnie E Pearl Spike Per come è fatto Sopra 8 bit Però forse ha perso Qualcosina Sto mese Perché Forse il mese scorso Era un po' più alto Ok Arriviamo a Crow Crow ragazzi Lo metto nella media Ma perché sopra Comincia ad esserci Veramente tanta gente Anzi Devo tirare anche giù Squeak Lo porto in D Lione invece Contrario Lo porto tutto su Sotto Melody Però ancora È sopra Pearl Ma sotto Melody Il Sandy Sicuramente Sopra la media Ma quanto Sopra la media Ma neanche tanto Forse Lo metterei qua Tra un Griff E una Jackie Tanto nel frattempo Me la prendo Con la povera Tara Che porto giù Di uno Ambra Ambra Regà Usata tantissimo In competitivo Sicuro non può stare Sotto il Tier B Però anche un Tier A ci potrebbe stare La metterei Eh O prima o dopo 8 bit La metto prima Dai Anche se non mi fa impazzire Ripeto Meg invece Lei ha un TRS Con lo stesso concetto Di Bonnie e Pearl Lei è diventata Veramente molto solida Ma secondo me Sta anche vicino a Iris Sto mese Ha preso tantissimo Chester Ragazzi va in F Mi spiace Mentre un Gale Lo mettiamo Qui Intorno a Dynamite Più o meno Ok Con Sorge Il mese scorso Mi ricordo che ero stato Cattivissimo Oddio Metterlo in D Allora Anche se Il meta Ha tanti brawler Con tanta vita Sono brawler Con tanta vita Ma con tanto range Anche Quindi la Colette Forse potrebbe Finalmente aver perso La cosina Però La tengo comunque In zona Stu Perché è veramente forte Allora arriviamo a Lu Lu l'ho visto Un po' meno Anche lui In effetti Però comunque Sopra Grom lo devo mettere Ringhio Ringhio è il brawler Meno piccato del gioco Lo sapevate E però è molto situazionale Non è scarso Che per assurdo Se andiamo a vedere Lo metterei anche In questa zona qua Perché l'ho visto Un po' di volte Ringhio Comunque Soprattutto in competitive Ecco Bell Bell Ragazzi È un TRS Bell è di nuovo Un TRS E la metto In questa zona Qui Perché Boh Io soprattutto Mi sono trovato Veramente bene con lei Buzz Con sto hypercharge Non è che abbia convinto Così tanto Perché sta meglio Di un Bull Ma Già in TRC Cioè sopra la Jackie Non ce lo metterei Toh lo mettiamo qui Lo mettiamo qui Ecco Ash Magari esagero un po' Ma Proprio non piace Per niente Non lo posso mettere in F Perché no Comunque lo usano Però Lo castigo un po' Perché è proprio Sto brawler qua È il peggior brawler Per me di Brawl Stars Proprio quello che uso Peggio E che mi piace di meno Anche come design Lola Sicuramente sopra la media Una robetta del genere Sì ci potrebbe stare Fang Lo devo tenere sopra Un Chuck Sicuramente Ma lo tengo sotto Un Rico Quindi la zona Potrebbe essere questa Guarda Guarda vicino a Rosa Ecco Eve Altro long Interessante Però da tenere sotto Piper Ma anche sopra Bea Guarda lo mettiamo Tra Max e Carl Guarda Jeanette Boh Cioè lei proprio Se la sono dimenticata Cioè Hank ancora per il meme La gioca Lo giocano qualcuno Jeanette Boh Otis è Ormai secondo me Nella media piena Ma non lo metto Sopra Ring Mortis Ma già sopra Doug Ho dei dubbi Quindi resta lì Buster E Buster Ho bisogno di ripetizioni Sicuramente Però è forte La zona potrebbe essere questa Magari lo mettiamo anche Sotto lo Spike Mandy invece Bruller che mi piace tantissimo Però non è che sia stato valorizzato Così tanto Non si può mettere sopra Una Piper Secondo me Però anche lei La metterei sopra Una Bea Sinceramente Sotto una Eve Sì Tra Brock e Chuck Dai E vicino a lei Guarda ci mettiamo anche già RT Perché bene o male Oh Maisy A di là di farmi fare un sacco di confusione Con i nomi Non lo so L'ho vista Forse un po' meno Rispetto alla season precedente È un anti-tank Comunque ci sono meno tank Il discorso non fa una piega Guarda che Li do proprio No la metto in top C La metto in top C È un po' cattivo Come risultato Però è così Poi abbiamo Cordelius Eh lui è bello forte Meglio di Charlie Ti dico di no Ti dico di no E ti dico anche che Jesse Io ce la porto in TRS E ti dico anche che Kit Lo metto come leggendario Più scarso del gioco Sotto Chester Questa roca Me la criticherete in tantissimi Già lo so Però in realtà Non è forte come pensate voi Questa Direi che potrebbe essere Una sorta di tier list definitiva Fatevi sapere cosa ne pensate Nei commenti Fate la vostra Mi raccomando ragazzi E condividetemela magari Su Instagram Con una story Staggandomi Noi ci aggiungiamo molto molto presto Grazie mille a tutti per la visione E ci becchiamo Alla prossima tier list Ciao Ciao